salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè a grande richiesta oggi parliamo del caso di Emanuela Orlandi non a caso perché è stata riaperta l'inchiesta l'indagine non dallo stato italiano bensì da quello del Vaticano ne parleremo dopo ma la cosa ha suscitato abbastanza scalpore quindi rivediamo tutta la storia con le principali teorie perché le piste seguite dagli investigatori dalla polizia sono state tantissime stiamo parlando di 40 anni di indagine quindi attraverso i fatti ripercorriamo quelle che sono le teorie principali e a differenza di altri video questa volta vi dirò anche la mia e nella parte finale invece parliamo appunto della riapertura del caso nella parte finale del video quindi cominciamo la sparizione di Emanuela Orlandi cittadina vaticana di 15 anni avvenne il 22 giugno del 1983 mentre la ragazza rientrava a casa dopo le lezioni di flauto e di canto il 22 giugno del 1983 il fatidico giorno della scomparsa di Emanuela Emanuela uscì di casa intorno alle 16 per recarsi alle lezioni di musica in piazza Santa Pollinare la lezione di flauto si svolgeva dalle 17 alle 18 mentre la lezione di canto si svolgeva dalle 18 alle 19 quindi Emanuela esce 10 minuti prima dalla lezione di canto chiama a casa da una cabina telefonica e risponde sua sorella Emanuela le racconta di essere stata fermata da un uomo che le aveva proposto un lavoro un lavoro di volantinaggio per l'Avon Cosmetics ora chiaramente l'Avon non c'entra nulla l'hanno smentito anche loro hanno detto che chiaramente gli rapitori hanno usato la scusa dell'Avon ma che loro non c'entrano questo lo dico per precisare comunque in questa chiamata la sorella le dice guarda lascia perdere torna a casa e la conversazione si chiude così Emanuela aspetta che le sue amiche escano dalla lezione e si avvia con due di loro alla fermata dell'autobus anche le due amiche confermeranno che Emanuela ha raccontato loro di questo signore che si è fermato per proporle questo lavoro secondo la polizia Emanuela avrebbe incontrato il suo rapitore colui che le ha offerto il lavoro prima di entrare a lezione di flauto quindi Emanuela con Maria Grazia e Raffaella le sue due amiche raggiunge la fermata dell'autobus in corso rinascimento alle sette e mezza Maria Grazia e Raffaella salgono sull'autobus sui rispettivi autobus per tornare a casa mentre Emanuela prende quello successivo perché è troppo pieno questa sarà l'ultima volta che qualcuno vedrà Emanuela perché da adesso si perdono totalmente le tracce quindi non vedendola rientrare a casa chiaramente i familiari si preoccupano il padre e il fratello vanno in giro per Roma a cercarla la sera senza però riuscire a trovarla la mattina successiva infatti fu formalizzata la denuncia della scomparsa presso l'ispettorato di pubblica sicurezza del Vaticano quando le indagini partono il dubbio della polizia è ma Emanuela si è allontanata volontariamente o è stata rapita questa sarà una domanda che la polizia si farà durante il corso delle indagini fino a un avvenimento in particolare che vedremo tra poco però attualmente non si capisce se Emanuela si sia allontanata volontariamente oppure se sia stata rapita quindi all'inizio la famiglia pubblica sul giornale Il Tempo un trafiletto con il loro numero di casa la foto di Emanuela insomma che appunto ne avvisa la scomparsa e se qualcuno la vede o ha delle informazioni può chiamare il numero di casa della famiglia Orlandi quello che fece scalpore fin da subito di questa vicenda fu il fatto che si trattasse di una cittadina vaticana cioè di ragazze ne scomparivano diversi all'epoca come chiaramente purtroppo tutt'oggi ma fece un sacco di scalpore proprio perché si trattava di una cittadina vaticana infatti lo stato del Vaticano è una città-stato situata al centro di Roma che non è sotto la giurisdizione della Repubblica Italiana ma fa stato a sé quindi come tutti gli stati hanno dei cittadini ed Emanuela Orlandi era una cittadina del Vaticano quindi il telefono della famiglia Orlandi inizia a squillare e tra tutte le chiamate ne spicca una in particolare la chiamata di un certo Pierluigi che dice che stava passeggiando con la sua fidanzata a Campo dei Fiori e ha incontrato questa ragazza che vendeva prodotti cosmetici di nome Barbara lui la chiama Barbara quindi questa ragazza vendeva prodotti cosmetici dell'Avon e portava un flauto con sé esattamente come Emanuela quando è uscita di casa quel giorno quindi da questa telefonata sembra che Emanuela si sia allontanata di casa volontariamente dopo questa chiamata a casa Orlandi si presentano due agenti dei servizi segreti italiani chiedendogli se fossero chiedendo la famiglia se fossero disposti a registrare le chiamate in entrata cioè quelle che arrivavano delle varie segnalazioni chiaramente la famiglia accettò il 28 di giugno la settimana successiva alla scomparsa di Emanuela chiama un altro uomo che si identifica come Mario e sembra sostenere esattamente più o meno la stessa cosa di quel Pierluigi cioè ha incontrato questa Barbarella anche lui la chiama Barbara ha incontrato questa Barbarella che vendeva prodotti di bellezza cosmetici per strada e aggiunge un dettaglio in particolare aggiunge che questa Barbarella gli ha raccontato di essersene andata di casa che aveva un concerto in cui doveva cantare quindi non suonare e cantare ma che non aveva più importanza perché ormai se n'era andata di casa questo dettaglio colpisce molto la famiglia perché effettivamente Emanuela aveva un concerto in cui lei faceva la corista quindi non doveva suonare il flauto era un dettaglio molto particolare quando arriva però il punto di svolta perché come vi dicevo a questo punto la polizia è indecisa è più propensa diciamo anzi sì era più propensa al fatto che Emanuela viste anche le chiamate di Mario e Pierluigi si fosse allontanata volontariamente di casa e quindi che non fosse stata rapita ma ad un certo punto c'è un evento che cambia tutto il 29 giugno vengono appesi i manifesti per tutta Roma con la faccia di Emanuela con il numero di casa della famiglia dicendo appunto che Emanuela era scomparsa così tanti manifesti che non ha potuto non attirare l'attenzione anche del Vaticano qui in questo giorno abbiamo la prima svolta perché quello che allora era il papa all'epoca cioè papa Giovanni Paolo II si affaccia dalla finestra di piazza San Pietro per celebrare la messa e nomina proprio Emanuela Orlandi lui dice di essere vicino alla famiglia nell'angoscia di non aver visto rientrare la loro figlia a casa da giorni condivide le ansie, l'angoscia e la trepidazione dei genitori nel sperare appunto che la loro figlia torni a casa ma qui aggiunge un dettaglio il papa fa appello a coloro che hanno la responsabilità di questo caso cioè che hanno la responsabilità di Emanuela e qui cambia tutto perché il papa dà per scontato che ci siano dei rapitori cioè il papa con questo discorso dicendo e appellandosi a coloro che sono responsabili di questa vicenda sta dicendo Emanuela è stata rapita ma la polizia in quel momento è più propensa al fatto che lei si sia allontanata volontariamente quindi chi gli ha detto al papa che Emanuela era stata rapita se neanche la polizia e la famiglia lo sapeva? inoltre dicendo spero che possa tornare dalla sua famiglia lascia di intendere che Emanuela sia ancora viva come se lui lo sapesse quindi questo discorso del papa risultò piuttosto strano ma le stranezze non finiscono qui perché due giorni dopo il discorso del papa a casa Orlandi arriva una strana telefonata arriva a casa Orlandi questa telefonata di una persona che parlava italiano ma con un accento britannico e fu soprannominato l'americano lui al telefono dice alla famiglia di aver già comunicato con la Santa Sede e di aver parlato con Emanuela proprio quella sera fa ascoltare una registrazione della ragazza si sente la voce di Emanuela che dice a ripetizione scuola convitto nazionale Vittorio Emanuele II scuola convitto Vittorio Emanuele II si ripete per 3-4 volte solo questo frammento inoltre l'americano avvisa che Mario e Pierluigi due anonimi che avevano chiamato per dare la segnalazione di questa Barbara facevano parte del suo gruppo in sostanza lui stava dicendo di essere il sequestratore di Emanuela Orlandi e fissa un ultimatum per il 20 luglio in cambio della liberazione di Emanuela Orlandi le autorità italiane dovevano consegnargli Mehmet Ali Acha chi è Mehmet Ali Acha? Acha è un terrorista turco facente parte del gruppo o perlomeno all'epoca si pensava facesse parte del gruppo terrorista dei Lupi Grigi un gruppo terrorista turco che fu arrestato e condannato per il tentato omicidio del Papa Giovanni Paolo II due anni prima il 13 marzo del 1981 salve qui si apre possiamo aprire così la cosiddetta pista internazionale quella che su cui indagheranno gli inquirenti che poi si rivelerà infondata perché vi dico infondata perché alla fine di quello che vi racconterò si capisce che né l'americano né i Lupi Grigi né tutti gli altri gruppi terroristi che sono intervenuti dopo per la rivendicazione del rapimento di Emanuela Orlandi e la liberazione di Ali Acha erano veramente i sequestratori di Emanuela Orlandi andiamo per ordine vedrete che alla fine si ricollega tutto ripartiamo dall'americano e poi parliamo di Acha chiaramente siccome Acha aveva preso l'ergastolo perché aveva cercato di uccidere in un attentato Papa Giovanni Paolo II e non è che la polizia italiana lo avrebbe rilasciato così sulla fiducia quindi dissero all'americano di dimostrare loro che effettivamente lui non solo aveva Emanuela Orlandi ma che fosse ancora viva e la cosa più ovvia che si fa in questi casi è fare una foto della ragazza in quel caso di Emanuela con il giornale del giorno stesso in modo che si veda la data e quindi si capisca che la foto è di quella giornata ma a questa foto non arrivò mai l'americano infatti che fa? chiama Lanza e dice guardate vi lascio un pacchetto in questo luogo in cui c'è la prova che io sono il rapitore di Emanuela Orlandi e che sono in possesso appunto cioè che la ragazza è qui con me quindi il direttore del Lanza si precipita nel luogo indicato che era un cestino dei rifiuti a piazza del Parlamento quindi il direttore del Lanza trova questo pacchetto e all'interno del pacchetto c'era la fotocopia della tessera della scuola di musica di Emanuela il pagamento di una ricevuta di Emanuela è un messaggio una scritta di Emanuela che diceva con grande affetto la vostra Emanuela scritto a detta della famiglia proprio con la sua scrittura ma dentro questo pacchetto queste prove che aveva fornito l'americano erano delle fotocopie cioè non erano gli originali quindi non era possibile stabilire se effettivamente l'americano avesse effettivamente Emanuela o magari fosse in contatto in qualche modo con i rapitori oppure per qualche motivo aveva semplicemente l'accesso agli effetti personali di Emanuela quindi quello non dimostrava nulla inoltre il messaggio di Emanuela aveva una calligrafia di una ragazza piuttosto rilassata quindi cioè non tremante sai magari quando ti dicono adesso scrivi un messaggio che lo mando alla tua famiglia cioè ti trema la mano psicologicamente dalla scrittura si vede che la persona che lo aveva scritto psicologicamente non era turbata e chiaramente una ragazza in una situazione del genere rapita è chiaro che fosse turbata quindi la cosa risultò un po' sospetta alla polizia il giudice a questo punto convoca Agcha per vedere che cosa ha da dire in merito lui scende dal camioncino e urla di condannare il rapimento di Emanuela che lui di tutta questa storia non c'entra nulla che anzi è solidale con la famiglia che si trova in una condizione così di difficoltà e una volta risalito sul camioncino quello che dice è questo io non faccio parte dei lupi grigi non sono stati lupi grigi ad addestrarmi per fare l'attentato al papa bensì il KGB cioè il KGB i servizi di intelligence dell'unione sovietica e voi direte a questo punto il KGB cioè il KGB rapisce Emanuela Orlandi per farsi ridare Agcha per addentrarci in questa teoria per smentirla perché poi chiaramente sarà smentita perlomeno abbandonata dobbiamo capire qual è il ruolo centrale della figura del papa dell'epoca in questa vicenda perché gira tutto intorno a lui il papa dell'epoca era Giovanni Paolo II cioè Karol Josef Wojtyla Giovanni Paolo II era di origine polacca all'epoca siamo in piena guerra fredda e quindi il mondo si divideva tra il blocco occidentale capeggiato dagli Stati Uniti e il blocco sovietico capeggiato dall'URSS la Polonia era sotto l'URSS quindi era sotto regime sovietico il regime sovietico fu il primo regime che aveva come obiettivo ideologico l'eliminazione totale della religione e la sostituzione con l'ateismo universale che cosa fa papa Giovanni Paolo II proprio nei giorni in cui viene rapita Emanuela Orlandi papa Giovanni Paolo II si trovava in Polonia quindi capite che il papa che va in uno stato sotto regime sovietico in cui la religione è illegale ha insomma a processare la religione una sorta di pellegrinaggio nella sua terra natale radunando tantissimi fedeli è un attacco non solo alla Polonia sovietica ma di riflesso anche a Mosca e la chiesa fino a quel momento si era sempre tenuta un po' nel mezzo cioè non ci esponiamo troppo ma con quel gesto di papa Giovanni Paolo II cioè di andare in Polonia a radunare una piazza piena di fedeli capite che chiaramente la chiesa così si è schierata dalla parte dell'occidente quindi nel blocco occidentale con gli Stati Uniti quello non fu il primo viaggio del papa in Polonia ce ne sono stati anche altri questi viaggi del papa questi pellegrinaggi nella sua terra natale che però era sotto regime sovietico hanno risvegliato nell'animo dei fedeli repressi dal regime un fervore di fede che ha contribuito a la formazione dei gruppi terroristi anticomunisti i cosiddetti Solidarnosc si facevano chiamare ricordatevi questo gruppo Solidarnosc perché ci torneremo tra un po' quindi il contesto era questo papa Giovanni Paolo II aveva esposto la chiesa cattolica verso un'ideologia rispetto a quell'altra cosa che solitamente la chiesa non faceva quando Ali Agcha ha fatto l'attentato all'inizio si pensava per i rupi grigi ma poi proprio per il caso Emanuela Orlandi quando fu chiamato disse no io sono stato addestrato dal KGB quindi dai servizi di spionaggio sovietici si è pensato al fatto che il KGB non avesse per niente gradito la mossa del papa e che quindi volesse chiudergli la bocca per sempre tentativo poi andato fallito quindi si è cominciato a pensare che dietro l'americano potesse esserci proprio il KGB cioè il fatto appunto ridateci Agcha perché ha fallito vogliamo chiudergli la bocca per sempre ora tornando appunto a questo misterioso americano tre giorni dalla scadenza dell'ultimatum dà un'altra indicazione per cercare un altro pacchetto contenente appunto degli insomma delle prove del fatto che Emanuela Orlandi fosse insieme a lui dentro questo pacchetto c'era una videocassetta e sul lato della videocassetta c'era sempre la classica frase che diceva lui cioè appunto ridateci Agcha se volete se rivolete Emanuela Orlandi dall'altro lato però c'è un messaggio agghiacciante si sentono i lamenti e i gemiti di una ragazza che appunto viene seviziata diciamo e quindi un messaggio veramente agghiacciante però che succede non ha comunque fornito la classica prova appunto la foto di Emanuela Orlandi con il giornale di oggi a prova del fatto che Emanuela fosse viva e con lui a poche ore dall'ultimatum quindi dal 20 di luglio l'americano fa un'altra chiamata dicendo se non mi ridate se non ci ridate Agcha uccideremo Emanuela Orlandi ma la polizia non rilasciò Agcha non accettò questo ultimatum e qui entriamo nel vivo della questione perché oltre al fatto che appunto l'americano non aveva fornito una vera e propria prova che Emanuela fosse viva e con lui ci sono altre stranezze proprio dall'inizio della vicenda con questo americano la prima stranezza è che solitamente nei sequestri non si dà mai un solo ultimatum ma se ne danno diversi inoltre il sequestro di Emanuela era avvenuto molti giorni prima rispetto alla chiamata dell'americano cioè il sequestro funziona che io ti rapisco la sera massimo 24 ore dopo ma è già tardi ti chiamo e ti dico guarda queste sono le mie condizioni mentre la chiamata dell'americano è avvenuta due giorni dopo che Papa Giovanni Paolo II si affaccia alla finestra e dice Emanuela è stata rapita cioè una volta che il Papa dà questo messaggio arriva la chiamata dell'americano e questa circostanza è molto sospetta altra cosa in caso di terrorismo internazionale la prima cosa che si fa è rivendicare cioè è che il gruppo che ha compiuto quell'atto deve rivendicare quell'atto mentre l'americano non ha mai detto a che gruppo terroristico facesse parte cioè lui ha detto io e il mio gruppo anche quando parla di Mario e Pierluigi dice loro fanno parte del mio gruppo ma non ha mai detto a quale gruppo terroristico facesse parte facessero parte tutti e tre il che solitamente non funziona così cioè anche questa circostanza è strana ecco perché la polizia ha deciso di non consegnare Ag Cha e infatti non è successo nulla scaduto l'ultimatum l'americano è sparito e quello che risulta ancora più strano è che se veramente dietro c'era il KGB che rivoleva Ag Cha stavano agendo come dei principianti anzi neanche cioè stavano agendo quasi in maniera strana come se non sapessero come si fa un sequestro e voi ce li vedete quelli del KGB che non sanno come si fa un sequestro è un po' strana come situazione la polizia successivamente per fortuna scopre che quei gemiti quei lamenti di tortura che si sentivano dentro il nastro inviato dentro al pacchetto dall'americano erano presi da un film porno quindi almeno questo quindi non poteva essere il KGB cioè questo americano non aveva Emanuele Orlandi con sé ma c'è un'altra cosa strana perché a un certo punto quando appunto questo caso diventa internazionale chiaramente i servizi segreti decidono di deviare le chiamate di spostare le chiamate presso un'altra sede che non sia la famiglia Orlandi e se lo spostano nello studio di questo avvocato Gennaro Egidio gli avevano insegnato a mantenere a lungo la conversazione perché all'epoca chiaramente per rintracciare le telefonate per provare a rintracciare la provenienza il luogo da cui si faceva la chiamata non c'era la stessa tecnologia di oggi quindi bisognava tenere la persona abbastanza al telefono quindi questo avvocato era stato istruito per tenere l'americano al telefono in una di queste chiamate la polizia cioè i servizi segreti riescono a rintracciare la cabina telefonica da cui l'americano faceva le chiamate perché ogni chiamata veniva fatta dalle cabine telefoniche riescono a rintracciare questa cabina e nel corso della chiamata vanno verso questa cabina ma quando arrivano questa cabina è vuota cioè in questa cabina al telefono di questa cabina non c'è nessuno e all'epoca non è come oggi vi dicevo gli unici che avevano l'apparecchio per deviare le chiamate erano i servizi segreti e i gruppi terroristici belli grandi cioè non ce l'aveva il criminalotto di turno l'americano quindi faceva parte di una delle due voi direte ok può essere allora il KGB però vi ripeto il KGB aveva agito un po' male era tutto molto sospetto comunque la pista fu abbandonata proprio perché finito l'ultimatum l'americano è sparito però qui succede un'altra cosa andato via l'americano ci sono state altre lettere di rivendicazione da parte di questi gruppi terroristici dicendo che appunto avevano Emanuela Orlandi c'è stato ad esempio il gruppo degli anticristiani del turkish che quindi era un gruppo un altro gruppo terrorista turco che voleva la liberazione di Agca in cambio di Emanuela Orlandi e altre lettere cioè si è andati avanti così per un po' ogni tanto spuntava un gruppo terroristico che rivendicava il ravimento di Emanuela Orlandi ma si chiudeva lì era tutta una situazione piuttosto strana quindi era chiara una cosa era chiaro che i gruppi internazionali stavano cercando di peculare sul rapimento di Emanuela Orlandi per ricattare il papa il papa papa Giovanni Paolo II che aveva iniziato la sua campagna quasi accanto agli americani anticomunista come sappiamo che l'americano dietro l'americano non c'era né il KGB né altri gruppi terroristici sovietici lo sappiamo dal crollo del muro di Berlino e dalla conseguente caduta dell'Unione Sovietica caduta l'Unione Sovietica Germania riunificata cade la Stasi che la Stasi era appunto il servizio i servizi segreti della Germania dell'Est e vengono pubblicati i documenti e alla 7 Gunther Bosnak che era un ex colonnello della Stasi accetta un'intervista e dice sì sì i gruppi del Turkish tutti quelli lì eravamo noi perché appunto volevamo cercare di prendere Aksha sfruttando il rapimento di Emanuela Orlandi ma non ha mai parlato dell'americano quindi questa figura dell'americano è rimasta un po' nell'ombra ma se non era il blocco sovietico che rivoleva Aksha sfruttando la pista internazionale chi ci rimane? Ci rimane il blocco occidentale si è pensati alla CIA chiaramente anche con l'accento britannico di questo tizio che parlava italiano con l'accento britannico può darsi che anche la CIA volesse Aksha la CIA ha detto che non sono stati loro secondo alcuni si tratterebbe invece del cardinale Marcinkus cioè proprio dall'interno del Vaticano hanno montato tutta questa pantomima per distrarre le indagini poi di Marcinkus ne parleremo dopo però in sostanza la pista terroristica è stata sostanzialmente purtroppo una perdita di tempo cioè è stata fatta dipende se per deviare le indagini o per cercare appunto di speculare perché qualcuno voleva questo Aksha e questa pista si chiude ma la seconda pista che si apre parte sempre da Papa Giovanni Paolo II quindi non dovevamo cercare a livello internazionale ma dovevamo cercare dietro casa proprio nella figura di Papa Giovanni Paolo II quindi ripartiamo dalla figura di Vojtila di Papa Giovanni Paolo II e della sua lotta al comunismo quindi Papa Giovanni Paolo II va in Polonia risveglia i sentimenti dei fedeli il fervore dei fedeli che volevano il crollo dell'Unione Sovietica e si formano dei gruppi terroristi interni su questa scia chiamati i Solidarnosc siccome il Papa e gli americani sostanzialmente avevano lo stesso obiettivo cioè il crollo dell'Urs l'America ovviamente per motivi politici il Papa per motivi religiosi la Chiesa Cattolica il Vaticano finanziò i gruppi Solidarnosc cioè finanziò i gruppi terroristi Solidarnosc perché Papa Giovanni Paolo II aveva capito che se voleva attaccare l'Urs doveva farlo dall'interno e farlo dalla Polonia ma chiaramente la Chiesa Cattolica cioè il Vaticano non poteva dare finanziamenti a gruppi terroristici così si ingegnarono a capo della Banca Vaticana c'era l'arcivescovo americano Paul Marcinkus come Giovanni Paolo II anche lui profondamente anticomunista Marcinkus per cercare un modo per mandare questi soldi la prima la prima parte dei soldi fu circa 200 milioni di dollari pensate per cercare appunto una via un modo per mandare questi soldi ai Solidarnosc contatta Roberto Calvi Roberto Calvi era il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato del Banco Ambrosiano una delle più grandi banche private d'Italia Calvi con il Banco Ambrosiano erano strettamente collegati alla Banca Vaticana le indagini che ci furono dopo il default del Banco Ambrosiano hanno ricostruito un po' il quadro di tutto il problema principale era che il Banco Ambrosiano aveva due fonti di approvvigionamento dei soldi uno erano i privati due era la mafia arriviamo al punto ci siamo quasi stiamo rifacendo il giro per arrivare al punto quindi se al Vaticano si serviva un modo per mandare i soldi ai Solidarnosc a Calvi serviva un modo per riciclare i soldi della mafia perché chiaramente non poteva spenderli così a caso dato che comunque essendo nel territorio italiano era soggetto a controlli e all'agenzia del cambio quindi serviva una banca che fosse al di fuori della giurisdizione italiana una banca come ad esempio la Banca del Vaticano quindi Calvi passava i soldi della mafia nella Banca del Vaticano la Banca del Vaticano li mandava alle Bahamas in una società fittizia creata da Marcinkus e Calvi questi soldi venivano ripuliti poi ripassavano per il Vaticano e poi ripassavano anche per Calvi in tutto questo venivano ripuliti i soldi della mafia con appunto anche dei profitti e in più venivano mandati tramite appunto dei giri i soldi ai Solidarnosc ma a un certo punto che cosa succede? che Calvi viene appunto sostanzialmente beccato dalla Guardia di Finanza il Banco Ambrosiano va in default finisce in bancarotta e Calvi scappa non si sa che fine ha fatto Calvi per non farsi arrestare fino a che non viene ritrovato impiccato in un ponte a Londra viene ritrovato impiccato al ponte con in tasca delle pietre e delle valute dei soldi di diverse nazionalità tra cui appunto le lire italiane le sterline dei soldi austriaci e insomma altre valute fu considerato suicidio ma i familiari non ci hanno creduto i familiari hanno detto lui non è un tipo che si toglierebbe la vita quindi hanno assunto un perito privato per ricostruire il tutto e quello che ha dedotto questo perito è che in realtà Calvi sia stato ucciso da chi è stato ucciso Calvi probabilmente dalla mafia e perché vi dico dalla mafia perché il fatto che Calvi sia stato ritrovato con i soldi in tasca con le valute non è un caso perché la mafia quando uccide lascia dei messaggi e in questo caso riguardava proprio il fatto dei soldi riguardava lo scandalo finanziario della banca ambrosiana cioè la mafia gli stava dicendo mi devi ridare i soldi Calvi non glieli ha ridati e quindi lo hanno fatto fuori per mandare però un avvertimento ad un altro al complice di Calvi cioè hanno detto guardate cosa abbiamo fatto a Calvi se non ci ridate i nostri soldi dalla tasca appunto il messaggio se non ci ridate i nostri soldi farete una brutta fine ed ecco qui che la storia di Calvi la storia di Papa Wojtyla e dei Solidarnosc si ricollega a Emanuela Orlandi perché ci sono due crimini l'uccisione di Calvi e il rapimento di Emanuela Orlandi cittadina vaticana quindi entrambi rivolti verso un unico obiettivo e cioè il Vaticano con un chiaro messaggio restituiteci i nostri soldi ma non è finito qui perché si ricollega anche Emanuela Orlandi perché il rapimento di Emanuela Orlandi è avvenuto proprio il giorno in cui il Papa Giovanni Paolo II era in Polonia che vi dicevo che appunto lui andava in Polonia per sfidare l'Ursa andava per riunire i fedeli nonostante la religione fosse illegale quindi lui lì era visto come un eroe mentre lui veniva celebrato da una folla acclamante come eroi veniva rapita una cittadina del Vaticano questo è un altro segnale della mafia che ti dice avete speso i nostri soldi perché appunto tramite il Banco Ambrosiano che riciclava i soldi della mafia evidentemente i soldi che la chiesa ha mandato a solidarno erano soldi della mafia che non sono stati restituiti e hanno fatto fuori i caldi due messaggi contro il Vaticano per dire ridateci i nostri soldi quindi la mafia rivoleva i soldi dallo stato del Vaticano ma questi soldi della mafia che venivano usati per finanziare i gruppi terroristici di chi erano? cioè di quale organizzazione criminale mafiosa d'Italia erano questi soldi? nel 2004 muore Papa Giovanni Paolo II e nel 2005 nella segreteria telefonica del programma Chi l'ha visto arriva una chiamata anonima in cui questo signore dà un'indicazione e dice che per sapere cosa ci fosse dietro la sparitchi e cosa ci fosse dietro la sparizione di Emanuela Orlandi bisognava andare a vedere chi era sepolto nella basilica di Santa Pollinare dentro la cripta di questa basilica troviamo il corpo di Enrico Renatino De Pedis Enrico Renatino De Pedis non è un tizio a caso partiamo dal presupposto che per essere sepolti in quella basilica c'erano due erano due opzioni o facevi parte delle cariche alte del Vaticano oppure avevi fatto un grandissimo ma grandissimo favore al Vaticano questo Enrico De Pedis Renatino è stato uno dei criminali più potenti di Roma fino al 1990 in cui fu ucciso in una sparatoria ma lui era a capo della banda della Magliana la prima banda criminale organizzata di Roma quindi la mafia di Roma lui era il capo che cosa ci fa Renatino sepolto dentro la basilica di Santa Pollinare considerando che lui non faceva parte dello stato del Vaticano cioè delle cariche alte del Vaticano la seconda opzione è che aveva fatto un enorme favore al Vaticano quale sarà questo favore al Vaticano e qui entra in gioco un testimone chiave cioè Sabrina Minardi l'amante di Enrico De Pedis che racconta tutto quindi all'epoca della sparizione di Manuela Orlandi lei era fidanzata con Renatino cioè con Enrico De Pedis che per comodità chiameremo Renatino un giorno con lei e Renatino erano in macchina in un parcheggio e stavano aspettando un carico si avvicina a questa macchina e in questa macchina c'era una ragazza che era proprio Emanuela Orlandi Sabrina racconta che all'inizio non l'ha riconosciuta perché era il giorno della sparizione quindi non era neanche stata fatta denuncia non l'aveva riconosciuta e Renatino dice a Sabrina prendiamo la ragazza la carichiamo in macchina dobbiamo andare a casa tua a Torvajanica perché lei aveva cioè i genitori di lei avevano una casa una piccola villetta indipendente a Torvajanica e quindi sono andati lì hanno portato Emanuela in quella casa l'hanno chiusa in una stanza e a badare a tutti i bisogni di Emanuela come il cibo farsi la doccia eccetera c'era una signora chiamata Adelaide perché Emanuela a detta di Sabrina era talmente drogata che non era neanche in grado di lavarsi da sola quando furono poi appesi i manifesti con la foto di Emanuela per tutta Roma Sabrina si rende conto che la ragazza nella camera della sua casa a Torvajanica era proprio Emanuela Orlandi che cosa succede a questo punto passano dieci giorni Emanuela deve essere spostata perché era lì era lì da troppo tempo quindi dalla villa dalla villetta di Sabrina la spostano in via Pignatelli a Monteverde in una casa in un appartamento con dei grandissimi sotterranei in cui Emanuela rimarrà per un po' tutto questo è il racconto di Sabrina dopo qualche giorno Renatino dà un'altra indicazione a Sabrina Sabrina si trovava appunto a Roma Renatino le dice aspetta in quel bar arriverà una macchina con la ragazza poi dovrai caricarla su una BMW che troverai parcheggiata e portarla via e Sabrina fa così arriva questa macchina con questa donna e Emanuela che era sempre a detta di Sabrina molto intontita quindi probabilmente l'avevano drogata con dei farmaci insomma per non farla reagire la prende la carica in macchina perché Renatino le aveva dato le chiavi di questa macchina e la porta in questo posto indicato da Renatino il posto in cui Sabrina avrebbe dovuto portare Emanuela Orlandi era il benzinaio nello stato del Vaticano lì ad aspettarla ci sarà e c'era una macchina nera targata città del Vaticano arriva al benzinaio e infatti c'era proprio questa macchina a detta di Sabrina da questa macchina scende un prete un sacerdote con la tunica nera con i bottoncini davanti e il cappello prende la ragazza la carica in macchina cioè prende Emanuela Orlandi la carica in macchina e se ne va quello è l'ultimo giorno in cui Sabrina ha visto Emanuela Orlandi Sabrina poi racconta di essere tornata da Renatino e di avergli questo racconta nel documentario Netflix e di avergli detto ma in che guaio mi hai messa questa era Emanuela Orlandi e Renatino risponde in una maniera curiosa dice è tutto un gioco di potere quindi l'inchiesta è stata riaperta proprio sulla testimonianza di Sabrina benché il racconto di Sabrina sembra quasi essere uscito da un libro da un film quindi sembra di primo acchitto essere piuttosto fantasioso quello che ha convinto gli inquirenti della testimonianza di Sabrina è stata la dovizia di particolari però che si sono rivelati veri perché gli inquirenti poi sono andati ad esaminare questo appartamento il secondo luogo in cui è stata tenuta Emanuela quindi questo appartamento di via Pignatelli e si sono resi conto che i dettagli forniti da Sabrina erano corretti inoltre dentro l'appartamento era stato costruito un altro muro proprio per creare un cunicolo in cui era valese che servisse per tenerci qualcuno quindi dalla testimonianza di Sabrina si capisce che coloro che volevano che rivolevano i propri soldi dal Vaticano era la banda della Magliana a conferma di quanto dice Sabrina c'è il detenuto che poi è diventato un collaboratore di giustizia Maurizio Abbatino che appunto era l'ex capo della banda della Magliana a cui fu preso e divenne collaboratore che conferma tutto e dice che il rapimento di Emanuela Orlandi è avvenuto proprio perché la chiesa deve ridare alla banda della Magliana un sacco di soldi quindi ecco la prima pista veramente valida cioè il Vaticano debitore con la mafia non gli ha ridato i soldi e i soldi della mafia sono stati spesi per finanziare i gruppi anticomunisti in Polonia dei Solidarnosc con a capo Papa Giovanni Paolo II Allora di Marco Accetti ne parliamo solo per dovere di cronaca ma Marco Accetti ve lo dico già è un mitomane cioè a un certo punto nel 2013 viene fuori questa testimonianza di questo Marco Accetti che si autodenuncia dicendo di essere il rapitore di Emanuela Orlandi prima di questo arriva una chiamata che poi si scoprirà aver fatto lui dicendo di andare a cercare dentro gli studi per quanto riguarda il caso di Emanuela Orlandi dentro agli ex studi dell'Aurentis entrano dentro questi studi effettivamente trovano un flauto che viene fatto vedere in onda chi l'ha visto trovano questa valigetta col flauto dentro che sembrerebbe essere quello di Emanuela ma una volta analizzato non sono state trovate tracce di Emanuela e poi è uscito Marco Accetti dicendo sono io che ho rapito Emanuela Orlandi l'ho rapita per conto della chiesa perché alcuni esponenti del Vaticano volevano ricattare mettere sotto pressione il Papa che per la sua politica anticomunista e io sono anche il rapitore di Mirella Gregori Mirella Gregori è un'altra ragazza sempre coetanea con Emanuela Orlandi che è stata rapita un mese prima cioè a maggio del 1983 quindi questo Marco Accetti dice io sono il rapitore di entrambe questa era la storia però sia la famiglia sia il fratello di Emanuela Orlandi che lo hanno incontrato sentendolo parlare non gli hanno creduto anche perché la sua storia è particolarmente fantasiosa nel senso che lui dice addirittura di aver girato per qualche giorno per Roma con Emanuela Orlandi perché le aveva fatto credere che suo padre era in bancarotta e che quindi lei doveva lavorare perché altrimenti avrebbero perso la casa e lei avrebbe accettato senza batter ciglio secondo la famiglia questa cosa non ha senso infatti Marco Accetti è stato sottoposto anche a perizia psichiatrica che ha rivelato che era un mitomane cioè una persona che vuole semplicemente comparire lui vive di questo e quindi per questo vi dico e meno ne parliamo di Marco Accetti meglio è perché gli è stata data troppa importanza però con la storia di Marco Accetti Emanuela Orlandi e Mirella Gregori vengono messe insieme cioè si crea il punto di domanda siccome sono state rapite sono comparse a un mese di distanza l'uno dall'altro i due rapimenti sono collegati non lo sappiamo ve lo anticipo già ed ecco qui che vi dico secondo me e secondo molti perché non è che io sia un genio del crimine che cosa cioè qual è il movente del perché è stata presa Emanuela Orlandi poi dopo di questo passiamo alle novità partiamo dalla domanda perché Emanuela io sono d'accordo sul fatto che Emanuela sia stata rapita dalla banda della Magliana per mettere sotto pressione e ricattare la chiesa cioè lo stato del Vaticano per farsi ridare i soldi spesi per finanziare i gruppi anticomunisti su questo io sono d'accordo con la pista cioè con questa pista con la pista che vi ho detto prima però qui c'è un'altra domanda Emanuela era sì cittadina del Vaticano ma perché non rapire un prete perché la banda della Magliana che è un'organizzazione criminale dovrebbe rapire una ragazza e non pensa a rapire invece un altro funzionario e qui sta il punto forse perché Emanuela era a conoscenza di un altro scandalo che riguardava il Vaticano perché è chiaro che se noi facciamo fede al racconto di Sabrina Minardi quindi della ex di Renatino che dice io l'ho consegnata a un vescovo un vescovo se l'è portata via e da lì nessuno sa più che cosa è successo alla ragazza è probabile che il Vaticano chiaramente non ha riportato Emanuela alla famiglia perché la ragazza poteva parlare la polizia poteva indagare poteva scoprire che il Vaticano doveva dei soldi alla banda della Magliana che poi i soldi della banda della Magliana erano anche i soldi di altre organizzazioni criminali del sud quindi era un po' cioè la banda della Magliana era più una sorta di rappresentante mettiamola così quindi lo stato del Vaticano non aveva alcuna convenienza che scoppiasse uno scandalo del genere nel nome appunto del Vaticano e quindi ok però come vi dicevo bastava rapire un alto funzionario un qualcuno che facesse parte dello stato del Vaticano non una ragazzina di 15 anni solo perché era cittadina del Vaticano quindi dietro c'è qualcos'altro e qui ci ricolleghiamo alla testimonianza dell'amica di Emanuela Orlandi che frequentava quel periodo perché apre una pista nella pista cioè ci dà un secondo motivo questa amica di Emanuela Orlandi racconta che Emanuela le aveva confidato che una volta lei si trovava nei giardini del Vaticano si era avvicinato a un alto prelato in carica il braccio destro del Papa e l'aveva infastidita riferendosi al fatto che le avesse fatto delle avanze di tipo sessuale quindi rapendo Emanuela c'era la possibilità non solo di far scoppiare come ricatto della banda della Magliana lo scandalo dei soldi della mafia che la Chiesa ha preso ma anche un possibile giro di pedofilia perché all'epoca così come oggi ma soprattutto all'epoca erano già chiaramente usciti gli scandali di pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica in generale insomma i preti sparsi per il mondo ma mai uno scandalo riguardante le alte sfere cioè le alte sfere coprivano questi scandali di altri ma non erano mai diretti interessati mentre se la ragazza avesse raccontato questa cosa probabilmente si sarebbe creato un altro scandalo quindi la banda della Magliana con il rapimento di Emanuela Orlandi aveva due motivazioni per ricattare la Chiesa Cattolica cioè se non ci ridà i soldi facciamo uscire due scandali non uno ma bensì due i soldi della mafia e la pedofilia come facesse la banda della Magliana sapere che magari Emanuela Orlandi per qualche motivo appunto era finita in contatto con questo prete o magari purtroppo era successo ancora di più questo chiaramente non lo sappiamo però a me sembra una pista valida perché vi ripeto altrimenti bastava rapire un cardinale se tu rapisci una ragazza di 15 anni cittadina del Vaticano è perché sai qualcosa è perché Emanuela era finita evidentemente in qualcosa che la banda della Magliana sapeva che poteva essere usata per ricattare il Vaticano infatti secondo un'altra pista investigativa che alla fine se in parte non siamo d'accordo comunque una cosa non smentisce l'altra purtroppo è che Emanuela Orlandi così come Mirella Gregorisi in realtà sia stata rapita proprio dal Vaticano perché appunto c'è un giro nelle alte sfere di pedofilia di festini di orge dove appunto vengono costrette a partecipare queste ragazze rapite questa cosa è stata scritta anche nel suo libro da padre Amort che padre Amort era un esorcista dicendo che appunto denunciando appunto la corruzione e la perversione delle alte sfere del Vaticano dicendo che appunto c'era questo giro di pedofilia a cui partecipavano anche degli ambasciatori di altri all'interno proprio delle mura dello stato del Vaticano in cui partecipavano anche ambasciatori di altri stati e alti funzionari di altri stati ma io ho dubbi su questa cosa non tanto per la parte dei festini perché è possibile è credibilissima come cosa anche perché questa teoria sarebbe confermata dal fatto che Marcello Neroni che era un membro della banda della Magliana molto vicino a Renatino De Pedis avrebbe rilasciato un audio nel blog Notte Criminale di Alessandro Ambrosini circa un mesetto fa verso dicembre in questo audio si sente lui Neroni che parla di Voitila dicendo Voitila poi un pezzo di audio censurato oppure insieme se le portava a letto se le portava non so dove se le portava all'interno del Vaticano quindi sembrerebbe aver confermato la teoria del fatto che tra le sfere alte del Vaticano ci sia effettivamente un giro di pedofilia molto grave ma perché il problema lo scandalo mediatico che c'è stato intorno alla sparizione di Emanuela Orlandi è stato proprio perché lei era una cittadina vaticana quindi se io fossi stato nel Vaticano ma penso il Vaticano in generale insomma un minimo di furbizia non vai a rapire una tua cittadina perché fa scandalo cioè tu rapisci bambini rapisci ragazze ma li rapisci in contesti che non siano quelli della piccola città del Vaticano con pochissimi abitanti perché in uno stato in cui non succede mai nulla ecco qua che sparisce Emanuela Orlandi e c'è scalpore quindi io non penso che il Vaticano avrebbe mai preso una propria cittadina poi chiaramente secondo il racconto di Sabrina Minardi questo vescovo cioè insomma questo prete ora non le so le cariche scusate ha preso Emanuela Orlandi se l'è portata via quindi per questo vi dico che poi che cosa sia successo Emanuela non lo sappiamo quindi una pista non smentisce l'altra però io non ho dubbi sul fatto che c'entri la banda della Magliana cioè per me a mio avviso poi fatemi sapere voi nei commenti invece che cosa ne pensate di questa storia ma per me è stata la banda della Magliana per ricattare la chiesa cattolica e la chiesa cattolica sapeva della sparizione di Emanuela Orlandi già dal primo giorno perché la banda della Magliana ha preso Emanuela Orlandi per ricattare il Vaticano e non la famiglia di Orlandi e infatti la banda della Magliana la sera stessa in cui è stata rapita Emanuela Orlandi ha chiamato il Vaticano e non la famiglia Orlandi il Vaticano sapeva già dal primo giorno che Emanuela Orlandi era stata rapita ecco perché Papa Giovanni Paolo II è uscito durante la messa della domenica dicendo che Emanuela era stata rapita perché lui lo sapeva e di questo abbiamo due prove la prima fu che partendo dal presupposto che il Vaticano ha sempre detto io non c'entro niente non voglio sapere niente non ha mai collaborato con gli inquirenti non ha mai collaborato con la famiglia non ha mai detto nulla su Emanuela ha detto no Emanuela è sparita poi in territorio italiano non nello stato del Vaticano quindi noi non c'entriamo niente non apriamo un fascicolo non investighiamo niente hanno fatto sempre muro ma quando è sparita Emanuela hanno aperto una linea speciale chiamata linea 158 in cui appunto chi aveva delle segnalazioni poteva parlare direttamente su questa linea bene qualche settimana dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi proprio sulla linea 158 arriva una chiamata e chi ha fatto la chiamata ha ben pensato anche di registrarla e di inviare tre minuti di questa telefonata recapitati anonimamente in tv nel 2019 in questa chiamata si sente questa voce che appunto dice linea 158 quindi sapeva che era la linea dedicata al caso di Emanuela Orlandi se si voleva chiamare appunto in Vaticano e chi chiama è un uomo che chiede del cardinale Casaroli segretario di stato del Vaticano cioè il prelato più alto dopo il papa poi che succede che quando lui fa questo annuncio e dice voglio parlare con Casaroli il re suore del centralino cominciano ad agitarsi cioè si sente che cominciano a chiamare cominciano a cercare di rintracciare questo cardinale Casaroli inizia il panico e dicono oddio ma che cosa dobbiamo fare quindi come se quella chiamata fosse cioè quella chiamata ha causato molta agitazione e quando Casaroli risponde dice si sono io la registrazione si interrompe il Vaticano non ha mai dichiarato agli inquirenti che cosa ci fosse in quella chiamata per quello vi dico il Vaticano ha sempre fatto muro se quello che dice Sabrina Minardi è vero cioè che appunto c'è stata tutta la cosa del vescovo eccetera significa che l'estate in cui Emanuele è stata rapita in realtà per tutta l'estate lei è rimasta viva mentre papa Giovanni Paolo II è andato a trovare la famiglia Orlandi e quando gli hanno chiesto insomma che cosa ne pensasse di Emanuele eccetera lui ha risposto Emanuele è in cielo nonostante in realtà probabilmente fosse ancora viva poi non si sapeva quindi perché papa Giovanni Paolo II dovrebbe dire alla famiglia Emanuele è in cielo cioè non c'era ancora c'era ancora speranza quindi da che da che basi sei partito per trarre questa conclusione stessa cosa poi gli è stata detta da papa Francesco qualche tempo fa cioè Emanuele è in cielo l'unica frase che ha detto il Vaticano in generale su Emanuele Orlandi è stata quella dei due papi Emanuele è in cielo la seconda prova che il Vaticano sapesse già del rapimento di Emanuele Orlandi prima che la polizia capisse che non era un allontanamento volontario bensì un rapimento cioè prima della dichiarazione del papa Giovanni Paolo II ce la dà l'arcivescovo Carlo Maria Viganò che è un prelato molto importante Viganò recentemente è andato a trovare l'avvocatessa Sgro che è l'avvocata della famiglia Orlandi dicendo che c'erano delle cose che doveva raccontare Viganò all'epoca era il sostituto segretario della segreteria di stato Vaticana Viganò racconta questo il 22 giugno dell'83 papa Giovanni Paolo II era in Polonia la sera stessa le 8 di sera lui che era il sostituto segretario di stato dello stato del Vaticano all'epoca dei fatti racconta che ricevette una chiamata dall'ufficio stampa del Vaticano e padre Panciroli che era appunto dall'altro capo del telefono gli dice guarda che c'è un tizio anonimo che rivendica il rapimento di Emanuela Orlandi la sera stessa in cui viene rapita ed è qui che ci si ricollega la teoria della banda della Magliana cioè la banda della Magliana che rapisce Emanuela Orlandi per ricattare lo stato del Vaticano chiama lo stato del Vaticano perché è con lo stato del Vaticano che vuole fare uno scambio non con la famiglia di Emanuela Orlandi e se quello che dice Viganò è vero vuol dire che il Vaticano lo ha sempre saputo e non ha mai detto nulla inoltre se vi ricordate bene la scomparsa di Emanuela Orlandi è stata denunciata dalla famiglia il giorno dopo il 22 giugno cioè lei è scomparsa il 22 giugno e la famiglia ha denunciato la scomparsa il giorno dopo quindi quello che ha chiamato il 22 giugno mentre il Papa era in Polonia era per forza il rapitore di Emanuela Orlandi perché non lo sapeva nessuno che lei era stata rapita il Vatilix è uno scandalo avvenuto nel 2016 che ha investito il Vaticano una fuga di documenti segreti sulla cattiva gestione e la corruzione all'interno dei piani alti dello Stato del Vaticano che qualcuno anonimamente ha mandato ai giornalisti italiani a questo punto possiamo dire una cosa cioè tra il Vatilix appunto questa fuga di documenti che non dovevano uscire dallo Stato del Vaticano e qualcuno ha mandato la stampa italiana Viganò che parla alcune segnalazioni alcuni indizi che sono stati dati durante il corso di questi anni attestano il fatto che all'interno dello Stato del Vaticano ci sia uno scontro tra due forze cioè tra chi vuole mantenere la vicenda Orlandi segreta e del perché sia successo tutto questo e chi invece vuole che la verità venga alla luce comunque questo plico conteneva che è stato mandato ai giornalisti italiani conteneva diversi scandali tra cui il rapporto della chiesa con la massoneria per esempio ma per quello che ci interessa di questo caso è che è uscito fuori la notizia che a quanto pare il Vaticano aveva un dossier su Emanuela Orlandi nonostante la Santa Sede abbia sempre dichiarato che in realtà non ha mai manco aperto le indagini perché Emanuela Orlandi non era stata rapita in territorio Vaticano ma in territorio italiano ma a quanto pare da questi documenti che chiaramente non c'era il dossier su Emanuela Orlandi ma questo dossier veniva nominato significa che il Vaticano in realtà ha una raccolta di diverse informazioni relative alla sparizione di Emanuela Orlandi che non ha mai voluto consegnare alla polizia italiana a questo punto il giornalista investigativo Fittipaldi si mette in contatto con una sua fonte che Fittipaldi si occupa proprio da anni del Vaticano insomma degli scandali eccetera si mette in contatto con una sua fonte insistendo un pochino per farvela breve riesce a farsi dare alcuni documenti cioè in realtà riesce a farsi dare un documento di cinque pagine che era una sorta di lettera che riassumeva delle spese che il Vaticano avrebbe sostenuto per il trasporto di insomma il vitto l'alloggio di Emanuela Orlandi questo documento non sappiamo se sia vero oppure no ma se fosse vero fa parte sono cinque pagine che fanno parte di un fascicolo di altre 187 pagine in mano al Vaticano e questo documento non sappiamo se sia vero non perché Fittipaldi se lo sia scritto per conto suo ma perché non sappiamo se la fonte gli ha dato un documento corretto le cose scritte in questo documento sono agghiaccianti il titolo del documento è resoconto delle spese sostenute dallo Stato Vaticano per le attività relative alla cittadina Emanuela Orlandi questo documento è stato scritto da Lorenzo Antonetti che all'epoca era il capo dell'ente che gestisce tutto il patrimonio del Vaticano nella prima pagina del documento Antonetti fa riferimento a tutte le spese sostenute per allontanare Emanuela Orlandi dal suo domicilio infatti nel documento si leggono i costi che sono stati pagati dal Vaticano per il vitto l'alloggio le spese mediche e spese di trasferimenti dove? a Londra cioè secondo questo documento a un certo punto una volta prelevata Emanuela sarebbe stata trasportata a Londra e abbiamo anche la via sul documento c'è scritto 176 Chapman Road quindi Fittipaldi va su Google Maps e inizia a cercare questa via ma non esiste cioè in realtà ne esistono tre ma non arrivano fino al 176 quindi a un certo punto capisce che potrebbe essere un errore di battitura e quindi invece di Chapman la via era Clapham Road e al 176 c'è un ostello della gioventù per ragazze solo per ragazze e che è proprietà dei padri scalabrinani una congregazione molto religiosa molto vicina alla chiesa cattolica quindi secondo questo documento Emanuela Orlandi sarebbe stata portata in questo convento in cui avrebbe vissuto fino al 1997 perché il documento riporta quella data quindi Emanuela dall'83 al 97 avrebbe vissuto a Londra in questo convento chiaramente la famiglia è andata in questo convento ma può darsi che Emanuela non l'hanno trovato nulla perché chiaramente se la devi nascondere non la registri col suo nome magari l'hanno messo un nome falso o non l'hanno proprio registrata per esempio poi la voce più agghiacciante è l'ultima perché dice attività generale e trasferimento presso Stato città del Vaticano con relativo disbrigo delle pratiche finali quindi sembra quasi come se in realtà Emanuela sia morta e quindi quelle siano le spese sostenute per trasportare la salma di nuovo nello Stato del Vaticano capite che se questo documento dovesse essere vero è gravissimo ci fu un altro evento nel 2018 in cui appunto ci ricolleghiamo alle informazioni che abbiamo adesso in cui praticamente Allas Gro all'avvocata della famiglia Orlandi arriva questa lettera con questa foto di una tomba in cui dice se vuoi trovare Emanuela Orlandi cerca dove guarda l'angelo quindi c'era appunto questa tomba cioè della serie Emanuela Orlandi è sepolta in questa tomba che succede che la Sgro prova a fare richiesta al Vaticano per aprire questa tomba con poca fiducia ovviamente ma il Vaticano accetta il Vaticano accetta il che le pare abbastanza strano aprono questa tomba e la tomba era vuota ma non c'era neanche un corpo lì dentro avrebbero dovuto esserci due principesse tedesche non c'erano neanche i loro corpi il che risulta un po' strano fino a che l'avvocatessa Sgro non riceve una degli screenshot di una conversazione tra due alti prelati dello stato del Vaticano in cui si fa riferimento a due cose mi raccomando dobbiamo fare delle fotocopie di tutti questi documenti di Emanuela che appunto fanno riferimento al fatto che il Vaticano abbia un dossier su Emanuela Orlandi e un altro messaggio dice però a questo punto i tombaroli chi li deve pagare visto che li dobbiamo pagare di nascosto e secondo la Sgro questi tombaroli sarebbero proprio quelli che eventualmente hanno spostato se non il corpo di Emanuela Orlandi ma gli effetti personali che si trovavano dentro quella tomba insieme alle principesse tedesche in realtà il Vaticano aveva già aperto quando appunto si sono scambiati questi messaggi che in realtà il Vaticano aveva già tolto tutto per quello ha detto si si apritela perché tanto non c'è niente il Vaticano dopo 40 anni decide di riaprire l'inchiesta il 9 gennaio annuncia che le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi verranno riaperte proprio dallo Stato Vaticano quindi in realtà appunto il Vaticano essendo uno Stato a sé ha la sua gendarmeria quindi la sua polizia le sue investigazioni eccetera e ci sono diverse cose da dire nel senso che chiaramente non c'è molta fiducia in questo perché è ovvio che se vogliono far uscire qualcosa faranno uscire qualcosa che vogliono loro cioè non ti diranno mai tutta la verità cioè dicono ok diamogli il contentino perché questa famiglia sono 40 anni che sta aspettando la verità la popolazione anche lo chiede è uscito magari ecco pure il documentario Netflix che poi il documentario Netflix è stato prodotto dall'Inghilterra quindi ha avuto risonanza mondiale insomma facciamo così apriamolo noi gli diamo un contentino molti pensano che sia così anche io purtroppo gli diamo un contentino chiudiamo questa faccenda e non ne parliamo più quello che deve rimanere segreto che rimanga segreto quindi insomma non c'è molta fiducia in questa riapertura sicuramente la Sgro ha presentato diverse cose ha detto che ha diverse testimonianze tra cui Don Vergari che era il priore della basilica di Santa Pollinare Monsignor Viganò che appunto è quello che ha dichiarato che in realtà la chiesa sapeva già tutto terrapimento dalla prima sera poi c'è Monsignor Gasvain Cardinale Givitz il Cardinale Avril quindi insomma ha preso diverse testimonianze hanno diverse cose in mano che chiaramente non è stato tutto reso pubblico perché insomma fa parte comunque delle indagini però dicono che la pista è palese ma bisogna capire se Emanuela Orlandi è viva è morta in tal caso dove sta il corpo è sepolto nello stato del Vaticano come molti pensano come indicano anche le segnalazioni tipo appunto guarda dove vai dove guarda l'angelo quindi in realtà rimane ancora cioè questo è uno dei misteri più grandi della storia d'Italia è uno degli scandali penso più grandi della storia del Vaticano inoltre Agcià ha mandato una lettera a Pietro Orlandi al fratello di Emanuela dicendo la sua teoria cioè lui dice che la banda della magnana non c'entra niente e che secondo lui Mirella Gregori e Emanuela Orlandi sono state rapite proprio per far pressione al Vaticano cioè Emanuela Orlandi è stata rapita per far pressione sul Vaticano Mirella Gregori per far pressione sullo stato italiano perché così avrebbero concesso la grazia ad Agcià che sarebbe stato libero e quindi delle forze insomma volevano questo però non ci sono prove a testimonianza di quello che dice cioè lui dice no girava tutto intorno a me lui continua a sostenere questa teoria l'ha detta anche appunto a Pietro Orlandi al fratello di Emanuela quando si sono incontrati però per me la teoria più valida è quella della banda della magnana e questa ragazzi è tutta la storia di Emanuela Orlandi vediamo un po' quali saranno gli sviluppi fatemi sapere voi che cosa ne pensate sotto nei commenti cosa secondo voi invece se siete d'accordo con me se siete in disaccordo che cosa ne pensate di questa vicenda fatemelo sapere sotto nei commenti noi ci vediamo settimana prossima martedì quindi vi auguro un buon weekend ciao